Si abbassa il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, resta stabile il numero dei pazienti in malattie infettive e intanto comunque la curva sempre increscendo. 474 pazienti positivi nelle ultime 24 ore riscontrati in provincia, 114 a Caltani, 7 a Gela, 72 a Niscemi, 53 a San Cataldo, 23 a Mazzarino, 20 a Sommativo, 19 a Mussomeli, 15 a Sera di Falco, 10 a Delia, 10 a Vallelunga, Pratameno, 8 a Milena, 8 a Riesi, 7 a Butera, 7 a Santa Caterina, 3 a Campofranco, 3 a Stutera, 2 ad Acquaviva, 1 a Bonpensiere, 1 a Marianopoli e 1 a Montedoro. Si contano ancora decessi, 3 pazienti positivi, 2 di Gela e 1 di Niscemi. Rispetto ai numeri complessivi che riguardano le singole città, 1.350 positivi a Caltanissetta, 15 ricoverati in malattie infettive e 3 ricoverati in terapia intensiva. Sono in tutto 5.242 i pazienti in quarantena domiciliare in tutta la provincia e ci sono positivi in ogni paese della provincia, in tutti e 22 i comuni.